buongiorno facciamo un bel cappuccino abbiamo impostato un latte schiumato molto schiumato qui si mette a fuoco cappuccino preparazione in corso eccolo qui abbiamo impostato la misura del bicchiere quindi adesso si fermerà il latte adesso preparazione del caffè macina automatica in grani già regolata e tutto ecco qui vediamo ecco un bel caffè molto cremoso ed è un piacere iniziare così la giornata buona giornata grazie